Oggi ti parlerò della tecnica di memoria più importante, più sottovalutata e più potente al mondo Oggi grazie a questo rotolo ti svelerò i mille segreti per una memoria potente e a lungo termine ma soprattutto divertente perché se non c'è il divertimento, se non c'è il gusto di fare le cose ma che le facciamo a fare? Credo molto dopo aver passato una vita nel fare le cose per dovere e non per piacere anzi solo per dovere perché il dovere c'è ed è giusto che ci sia ma creare un po' di piacere nelle cose fatte per dovere cambia, cambia e fa la differenza Questa è una delle tecniche di memoria che ho imparato pochissimi anni fa, recentemente e che si rifà ad alcune modalità di funzionamento del cervello Basta guardare sempre i più grandi maestri che ci siano in una faccia da terra, i bambini Penso che tutti siamo d'accordo sul fatto che i bambini amano i colori Gli dai un pacchetto di colori e è meglio che dargli il tablet, meglio che dargli la tv e i cartoni animati I colori fanno impazzire i bambini Perché? Perché sfruttano la loro immaginazione Vanno a riempire la loro creatività, immaginano Se vedi un bambino che ieri sera c'era una bambina ad una festa dove stavo che di tre anni, quindi colorava, solo lei capiva cosa ci fosse in quel disegno e ci vedeva il mondo dentro a quel disegno Pensa come la sua fantasia stava galoppando grazie a quei colori Ora io non voglio fare né lo scienziato né rimandare a casi specifici scientificamente provati ma ti chiedo solo di fare una riflessione, di fare attenzione, di provare e sperimentare te stesso per vedere se e cosa funziona Io questa tecnica l'ho scoperta banalmente ad un corso che aveva il valore di 2000 euro che mi avevano regalato dei miei amici a Varsavia Per mia grande fortuna andai a quel corso gratuitamente Ringrazio i miei amici per avermi invitato a quel corso Durante questo training difficilissimo, durissimo, molto personale, molto introspettivo ci chiedevano proprio di prendere appunti a colori, di usare tanti colori senza nemmeno dare troppa importanza a quale colore scegliere ma andando molto più a caso Quindi usando questo rotolo magico che io amo moltissimo sono i colori della Stabilo Artist si chiamano e scegliendo anche solo a caso facendosi guidare dall'intuito e creando una pagina colorata Quando scriviamo cambiare colore ad ogni riga crea la pagina molto più bella a vederla d'occhio crea delle collegamenti delle collegamenti di memoria molto più potenti e guardando una pagina piena di immagini e di colori togliendola comunque ricordi dove erano posizionate le varie cose Questo da solo pensa che forza che ha se viene poi utilizzato e costantemente durante la vita quotidiana prendere appunti per la spesa prendere appunti per una lezione d'inglese scrivere parole nuove d'inglese usare i colori è proprio la strategia migliore e più facile perché non serve nessun training non devi studiare nessuna regola nessuna tecnica devi solo cambiare dal bianco e nero a usare tanti colori più colori usi e più la memoria ne beneficerà e più il gusto di prendere appunti aumenterà prova, prova adesso prova a prendere degli appunti di questo video e fallo con i colori e vedi qual è la sensazione mentre prendi appunti quindi vantaggio numero uno ti godi il processo e vedi poi se chiudendo la pagina hai la stessa sensazione di una pagina in bianco e nero dove vedi tutto nero o qualcosa di colorato nella memoria rimane immagina studiare su un materiale colorato piuttosto che un materiale in bianco e nero cosa fare quindi per migliorare la memoria? usare tanti colori prendere appunti con i colori evidenziare va bene ma se puoi scrivere direttamente colorato è meglio e usare anche post-it colorati io di post-it ne ho di tutte le misure e di tutti i colori riempi la scrivania di colori il quaderno di colori sicuramente lo studio verrà molto 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 meglio ti divertirai ti ricorderai e soprattutto continuerai anche quando sarà finito lo studio perché è proprio un divertimento cioè io perché lo faccio? perché mi diverto thank you very much and see you on the other side grazie per aver guardato il mio video iscriviti al canale cliccando sulla campanella leggi la descrizione per i link materiali aggiuntivi fai un commento e guarda gli ultimi video grazie per aver guardato il mio video grazie per aver guardato il video grazie per aver guardato il video